Da impiegato a 150 dollari al mese in uno dei più poveri stati indiani a milionario. Non è il film Slam Dog Millionaire, ma la storia vera è accaduta su Shil Kumar, un ragazzo indiano di 27 anni, tecnico informatico, che ha vinto un milione di dollari a un quiz televisivo, con cui, dice, pagherà i debiti e costruirà una nuova casa per la famiglia.